Sono Roberto Pitaluga, lavoro in Lardini da 13 anni e mi occupo di stile. L'importanza di dare continuità a uno stile la ritengo fondamentale. Un giorno il nostro agente di Tokyo ci disse che i clienti erano soddisfatti in quanto trovavano innovazione nella continuità della proposta. Ritengo che l'uomo, essendo fatto di materia, dia molta importanza alla texture del tessuto. L'80% della collezione attuale è impostata su tessuti esclusivi. Provo divertimento nel diversificare il modo di vestire l'uomo Lardini. L'uomo Lardini è un uomo classico elegante che si riesce a cambiare nell'arco dei momenti sempre con outfit di sapore. Ci sono tanti uomini Lardini. Ritengo che la Lardini sia la creatività e l'eccellenza del Made in Italy, il fiore all'occhiello del vestire maschile. L'uomo Lardini è un uomo classico elegante che si riesce a cambiare nell'arco dei momenti.